Frodo è stata la classica scelta che sembra incaricata tipo da un governo italiano, ok? Cioè tu prendi la persona meno indicata, le competenze meno riconoscibili per fare una cosa difficilissima come portare l'anello a Montefato. Infatti, potremmo tranquillamente dire che Frodo Baggins ha fallito nel tentativo di portare a distruzione l'unico anello. Demoni, zombie, state allerta. Anche oggi sta arrivando il tram sui denti. Sei su Delicogine. Potrei anche dire che si è trattata di una missione assolutamente fallimentare, quindi ci sta benissimo all'interno di questo discorso. Potremmo dire Frodo Baggins è sottosegretario alla distruzione dell'unico anello. Mi sembra che siamo a livello della politica italiana. Una missione suicida senza possibilità di successo che viene fallita miseramente. Questo è bello. Perfetto. Sembra periodo elettorale. Ma prima di addentrarci... Ciao caro, bentornato. Come stai? Bene, grazie. Reduce da Lucca dove mi sono preso, come al solito, come tutti gli anni, un bel raffreddore potente. È distruzione totale. Quindi vai. Direi che siamo nella norma. Guarda, io sono contento di essere venuto a Lucca quest'anno perché sarebbe stata una missione suicida quanto quella di Sam e Frodo a Montefatto. Quindi io me la sono risparmiata quest'anno e sono contento così, però ho visto anche, ho sentito cose belle. Quindi è stato comunque divertente al di là del raffreddore. Sì, dai. Purtroppo sono andato un solo giorno. Spero sempre di condividere più giorni ogni anno, ma dopo come vanno le cose. Non sono io a deciderlo, quindi è già tanto essere andati là un giorno. Un epic fail costante. Dai, bene, bene. Ma mai epic fail quanto Frodo Baggins e l'anello? No, oggi ho voluto proporti questo argomento perché io ogni tanto mi metto a sfogliare le bellissime lettere di Tolkien. Insomma, è un testo meraviglioso perché si vede quanto c'è dietro all'opera, quanto c'è dell'essere umano dietro alle vicende. Insomma, è veramente un bel testo da leggere che io consiglio di leggere a tutti quelli che sono appassionati di Tolkien perché veramente trovi dentro tante anche chiavi di lettura. E una di quelle è legata proprio alla figura di Frodo perché Frodo, io mi ricordo ancora quando lessi la prima volta del Signore degli Anelli, Frodo nel Signore degli Anelli è un po' come Harry Potter in Harry Potter, cioè ti sta un po' sulle balle, ok? Cioè il protagonista in fin dei conti ti sta sulle balle perché fa un sacco di cose stupide, continua a compiere errori e alla fine dei conti fallisce in una buona parte delle cose che gli vengono date come incarico e poi nel tempo ho capito che in realtà non era proprio un fallimento, è una cosa un po' diversa e Frodo è diventato una figura molto molto affascinante. E allora vorrei discuterne con te perché c'è quella lettera che è, se non sbaglio, la 247. In un certo punto Tolkien si indirizza proprio a quelle persone che dicono Eh ma Frodo, Frodo Baggins è proprio un fallito della guerra dell'anello, cioè dai questo si prende l'anello per caso, prima di tutto vorrebbe distruggerlo, poi fa questo viaggio improbabile, alla fine dei conti viene sempre salvato o da Sam o da Gollum pure e arriva e non butta neanche l'anello a Montefato e deve esserci un colpo di culo universale per il quale l'anello poi viene distrutto e quindi può essere definito come un fallimento ma Tolkien scrive una lettera che è bellissima, allora vorrei partire da qua, scrive Frodo in effetti fallì come eroe, come concepito da menti semplici, quindi il che significa che io da giovincello ero considerato una mente semplice, grazie maestro. Non resistete fino alla fine Cedette si arrese Non dico menti semplici con disprezzo Spesso vedono con chiarezza la semplice verità e l'ideale assoluto a cui l'impegno deve essere diretto anche se irraggiungibile La loro debolezza tuttavia è duplice Non percepiscono la complessità di una qualsiasi situazione data nel tempo in cui un ideale assoluto è intrecciato Tendono a dimenticare quel bizzarro elemento nel mondo che chiamano pietà o misericordia che è anche un requisito assoluto nel giudizio morale poiché è presente nella natura divina Nel suo esercizio più alto appartiene a Dio Qui Tolkien sta dicendo, attenzione Frodo fallisce se concepiamo la sua vicenda come una vicenda terrena come la vicenda di un essere umano un hobbit a cui viene dato un programma da eseguire ma in realtà se si amplia lo sguardo è molto di più Come la vedi tu Paolo? Io la vedo che Frodo è un personaggio assolutamente tragico e tu hai parlato di eroe, di eroismo Bisognerebbe interrogarci, visto che l'abbiamo già fatto e visto che è un po' anche il centro di queste nostre conversazioni sul senso di cosa significa essere eroe Se l'eroe è qualcuno che va a fare un viaggio nell'altrove fantastico in questo caso torna indietro, dovrebbe portare qualcosa con sé Cosa porta Frodo con sé? Nulla Frodo non è l'eroe Frodo non porta qualcosa in grado di salvare la sua terra è Sam quello Quindi noi possiamo dire che Frodo è il protagonista del Signore degli Anelli ma non è l'eroe della storia perché l'eroe della storia è Sam che è quello che porta indietro le sementi dell'orto di Galadriel che serviranno per far rinascere la contea più bella, più verde, più rigogliosa di prima Frodo non porta niente del suo viaggio anzi porta dietro con sé il peso del suo fallimento e lo dice anche Tolkien nelle lettere dice che Frodo vive come letteralmente un peso schiacciante questo suo fallimento a Montefato nonostante lui non avrebbe potuto farcela perché in quel luogo dove l'anello è più potente perché è stato fabbricato lì nessuno può sconfiggere la volontà dell'anello e di Sauron questa è una cosa palese quindi anche lui avrebbe dovuto accettare il fatto che era destinato a fallire ricordiamo che in Tolkien i personaggi vincono quando falliscono e per tutta una serie di cose la vicenda finisce bene perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Gollum sarebbe sbuccato da nulla gli avrebbe staccato il dito e sarebbe caduto sulla voragine di Montefato risolvendo il problema l'eucatastrofe famosa quella che realizza la provvidenza il problema è che Frodo questa cosa non l'accetta non accetta di aver ceduto al male di aver rivendicato per sé l'anello e di aver fatto quello che l'anello gli diceva cioè lo ha fatto abdicare al libero arbitrio c'è quella fenomenale frase che dice ecco io sono arrivato qui e non scelgo di fare quello che sono venuto a fare cioè rinuncia alla possibilità di esercitare questa liberazione non scelgo di non fare ma non scelgo di fare che è una formula mamma mia che pelle d'oca che pelle d'oca e peraltro in quello che hai detto tu cioè proprio io qua visto che ho la lettera sott'occhio vorrei rimarcare quello che dicevi scrive Tolkien non credo che quello di Frodo sia stato un fallimento morale all'ultimo momento la pressione dell'anello avrebbe raggiunto il suo massimo impossibile avrei detto per chiunque resistere certamente dopo un lungo possesso mesi di crescente tormento e quando affamato ed esausto Frodo aveva fatto tutto ciò che poteva e si era speso completamente come strumento della provvidenza e aveva creato una situazione in cui l'oggetto della sua ricerca poteva essere raggiunto la sua umiltà con cui aveva iniziato e le sue sofferenze furono giustamente ricompensate dal più alto onore e il suo esercizio di pazienza e misericordia verso Gollum gli guadagnò misericordia il suo fallimento fu riparato cioè ecco qua sai tu parli di diciamo eroe tragico cioè nel senso non eroe nel senso epico del termine ma è proprio un eroe tragico perché Frodo è l'immagine dell'indecidibilità del destino cioè non è lui che può scegliere di compiere la sua missione ma è letteralmente la sua missione che si dipana attraverso di lui e infatti in questo pezzo qua c'è l'elemento che secondo me è perfetto ed è la grande lezione che il personaggio di Frodo può darci lui porta a termine la sua missione per qualcosa che non ha fatto lui non ha ucciso Gollum cioè e questo è geniale è veramente geniale forse è l'elemento più meraviglioso del punto di vista proprio etico dell'opera di Tolkien lui arriva alla fine davanti alla voragine di Montefato e non sceglie di compiere la sua missione ma quel mancato libero arbitrio trova il suo contrappeso nel fatto che nelle vicende precedenti lui sceglie di avere pietà di Gollum peraltro sul suggerimento di Gandalf in quel bellissimo in quella bellissima pagina ecco questo è incredibile perché quello che Tolkien ti dice in questo lui è veramente un autore cristiano veramente nel modo nel senso agostiniano del termine il tuo libero arbitrio è veramente libero perché si apre a possibilità che tu non puoi concepire ma a cui puoi soltanto arrenderti e abbandonarti questa è la tragicità di Frodo guarda qui c'è il problema in qualche modo dell'empatia della compassione nei confronti di chi ha subito e sta subendo le stesse cose le stesse dolori che stai subendo tu cioè all'inizio della storia Frodo si rammarica e dice ah che peccato che Bilbo non abbia fatto fuori quella creatura quando non aveva la possibilità e Gandalf gli dice guarda non essere così smanioso di emettere giudizi sentenze di morte tu parli così perché non l'hai visto quando lo vedrai forse capirai e infatti quando lo vede scatta questa empatia che tra l'altro è la stessa empatia che era scattata con Bilbo cioè anche Bilbo davanti a Gollum aveva visto un alter ego di se stesso e così fa Frodo che avendo l'anello capisce questo tormento e tra l'altro le scene in cui Frodo è costretto a trattare male Gollum sono fatte nella piena coscienza che esiste solo quella dinamica tra padrone e servo dell'anello di cui Gollum è ormai preda Gollum non conosce altro e quindi lui cerca di essere gentile ma poi è costretto a ordinargli di fare delle cose obbediscimi altrimenti ti ordino di buttarti giù dalla rupe obbediscimi altrimenti ti ordino di strozzarti con una lisca di pesce e quindi lui soffre in questo capisce chi ha davanti e non può non arrivare la compassione Sam che non vive questo travaglio non capisce Gollum infatti Sam lo farebbe fuori senza problemi ma poi la grandezza di Tolkien è che l'eroe è Sam cioè anche se ha saltato questo passaggio Frodo invece che riceve tutto quello che riceve e fa sì che la missione si realizzi è quello che invece ha mostrato più empatia più compassione più pietà questo è il centro poi cristiano del tutto e infatti l'eucatastrofe si può realizzare nel momento in cui c'è stata la pietà e infatti alla fine di tutta la vicenda a Frodo verrà dato un passaggio sulla nave degli Elfi per andare nell'isola di Toleresea proprio in virtù di questa misericordia che ha mostrato nei confronti di Gollum viene premiato però questa è una cosa anche in questo caso drammatica perché Frodo non si ria mai da questo fallimento e lo dice chiaramente Tolkien cioè nel momento in cui lui non poteva fare niente e non poteva che arrendersi al potere dell'anello lui vive questo fallimento come una sconfitta personale e Tolkien parla especitamente di superbia da parte di Frodo e infatti Frodo se si fosse arreso a questa evidenza l'avesse presa in una maniera diversa probabilmente avrebbe avuto un ruolo diverso alla fine del romanzo nella Contea invece per lui non c'è niente quando torna indietro cioè Frodo è un personaggio veramente drammatico quando dice la Contea è stata salvata ma non per me è veramente una cosa tragica perché lui ha combattuto lui ha fatto tutta quella missione è arrivato fin là e poi torna indietro e si accorge che nulla è stato fatto per lui lui è totalmente un disadattato da questo punto di vista e qui si vede il concetto del Reduce che aveva Tolkien uno che è stato in guerra torna indietro con i suoi amici che invece si reintegrano all'interno della società invece per lui non c'è niente non diventa il ricostruttore non fa niente sta nove mesi e se ne deve andare perché sta sempre peggio quindi sta pochissimo ha vissuto tutto quello che ha vissuto per starsene nove mesi a casa sua avere sempre più male alla ferita che gli hanno fatto e poi alla fine se ne deve andare è veramente un personaggio tragico perché dove va poi non si sa non è che vada all'avventura o che vada in una sorta di paradiso cioè queste letture sono molto limitanti in realtà Tolkien parla di rifugio purgatoriale dove forse potrà avere una delle sue ferite sanate da parte degli elfi ma non si sa certo no non si sa la scelta finale del salpare verso il mare peraltro è una mara presa di coscienza sul fatto che il suo ruolo è finito questo in realtà è ciò che accomuna tutti i personaggi che alla fine del romanzo se ne vanno per mare cioè l'idea ti dico che una delle domande che mi sono state fatte più spesso quando faccio video su questi argomenti o anche una cosa che ho trattato in uno dei miei libri è ma perché Gandalf non resta perché Frodo se ne va via dicendo beh in realtà una parte della risposta è legata al fatto che loro sanno che il loro ruolo è finito cioè hanno compiuto ciò che andava compiuto di nuovo il ruolo di strumenti della provvidenza quindi c'è una storia che si dipana che letteralmente usa i personaggi per i propri fini diciamo così per dirla in modo semplice e poi a un certo punto devi renderti conto del fatto che il tuo ruolo è andato da questo punto di vista credo che la parte positiva se possiamo trovarne una dell'abbandono della terra di mezzo da parte di Frodo e ovviamente anche Gandalf Edelron e tutti quanti sia il fatto di accettare di lasciare in eredità cioè non può esistere contatto con la provvidenza con questa idea della storia che sia priva dell'idea che a un certo punto io dovrò lasciare in eredità il mio incompiuto il dramma di Frodo è che lui più degli altri ritiene incompiuto se stesso e il suo dolore è legato proprio al fatto che potrei dire in Frodo prevale l'ego rispetto invece all'amor proprio laddove Sam fa crescere l'amor proprio e questo si traduce nel fatto di risanare la contea di ritrovare l'amore di avere un nuovo ruolo nel mondo e Frodo è probabilmente e questo è il mio azzardo ancora troppo legato all'immagine di Bilbo Bilbo che invece era tornato dal suo viaggio con qualcosa ed era Bilbo per lui cioè e questo sai l'ho trovato sempre molto interessante anche molto umano la mitizzazione di Bilbo è la condanna di Frodo cioè Frodo voleva essere Bilbo e questo suo volere essere Bilbo gli impedisce di sentirsi parte integrante della vicenda che raccoglie tutti quanti questi personaggi alcuni epici alcuni tragici alcuni grandi altri piccoli e vede solo se stesso e dice io ho fallito nel diventare Bilbo ed è incredibile anche perché è molto umano quante volte a noi capita di bloccarci nella vita perché il modello che volevamo imitare in realtà non riusciamo ad imitarlo e non ci accorgiamo che in realtà l'errore stava nel voler imitare il modello ed eravamo già condannati a fallire già condannati a sentirci sminuiti da questo guarda io sono d'accordo completamente d'accordo con te il grosso problema di Frodo è che lui vuole essere Bilbo e questo forse è anche il motivo per cui Frodo viene normalmente avvertito come un personaggio un po' moscio perché uno legge Signore degli Anelli e dice caspita però che eroe questo non combatte non è un guerriero è sempre lì che pensa è saggio cerca sempre di dire la cosa giusta un po' perché è un Hobbit a due metro in mezzo a guerrieri non andrebbe molto lontano ma poi soprattutto perché lui ha veramente una crescita bloccata cioè ricordiamo che lui parte da casa all'età di 50 anni esattamente come Bilbo cioè lui rivive in parte quella storia di Bilbo si trova addirittura a ripercorrere gli stessi passi di Bilbo e recita la stessa canzone di viaggio di Bilbo cioè lui a un certo punto si legge quando prima che gli arrivi in casa Gandalf che gli dice tu hai l'arma più potente del mondo cioè lui è lì che è un compiuto non sa cosa fare non ha un lavoro non ha una famiglia non sa dove andare è molto irrequieto ma non sa che cosa fare e come Bilbo prima della che Gandalf arrivasse da lui all'inizio dell'Hobbit e gli dicesse partecipo a un'avventura e il problema è che Frodo vorrebbe vivere all'interno dell'avventura di Bilbo e glielo dice lui ho sempre sognato di vivere con te in una delle tue avventure c'è anche nel film di Peter Jackson è fantastica quella scena e gli capita un po' la missione per antonomasia quella di andare a salvare il mondo poi è diventato un po' il capostipite di tutti questi romanzi per cui un protagonista viene mandato con un'impresa impossibile leggi inizio leggi missione suicida portata a termine malissimo però ecco quella è l'occasione che gli dà la possibilità di far vedere che anche lui è all'altezza della situazione quindi lui mantiene sempre questo standard quindi certo soffre non ce la fa più però vuole arrivare alla fine è una negazione totale che poi diventa di fatto anche il suo limite a un certo punto si scontra contro questa idea che lui ha di se stesso per cui lui doveva portare a termine questa missione lui proprio era il prescelto che doveva farcela non ce la fa e lì c'è il crollo e quindi alla fine lui proprio è fallito da questo punto di vista e quindi questo si connette dal punto di vista morale poi al problema del disagio che ha un reduce quando torna a casa che non è più lo stesso perché il mondo intorno a lui è andato da un'altra parte nel frattempo lui non lo riconosce più e quindi io sono andato ho sognato la mia contea fino adesso adesso torno e mi accorgo che non è come me l'aspettavo io non è più quello che ricordavo io è una tragedia guarda che questo è tragico anche perché anche questo lo possiamo veramente dipanare in senso molto umano molto quotidiano allora intanto mi viene una battuta cioè Frodo fallisce perché vuole fare il cosplayer di Bilbo Baggins cioè nel senso letteralmente quindi come qualsiasi cosplayer poi finisce per deludersi quando deve mettere da parte il costume però battute a parte e questo ci ricorda il fatto che nella nostra vita c'è letteralmente e Frodo è un esempio perfetto c'è letteralmente un sé vivente e un sé narrante come ne parlano visto che lo citiamo spesso Jung ma come ne parla anche più recentemente non so a Rari cioè noi abbiamo da un lato la nostra vita che è ciò che ci accade e poi abbiamo il sé narrante che è quella voce della mente che cerca di farsi un'immagine di quello che ho vissuto una rappresentazione quindi che ti crea una storia ecco Frodo è incredibile perché è tra virgolette eroico nella vita che fa perché cazzo certo che è eroico riesce a compiere degli atti che neanche Gandalf neanche Aragorn avrebbero forse portato a termine nel modo in cui li porta a termine riesce comunque a risolvere situazioni di nuovo a compiere cose senza poi vederne la reale conseguenza come la pietà nei confronti di Gollum e tante altre decisioni quindi lui vive una missione eroica perché è grazie a lui che poi l'anello finisce per essere distrutto anche se in quel modo rocambolesco ma il sé narrante di Frodo dal momento che il suo cardine il suo simbolo è Bilbo e lui vorrebbe ricalcare Bilbo e distorce questa stessa vita cioè lui non riesce neanche a comprendere il valore di quello che ha fatto si sente sminuito e questo ci capita spesso proprio quando non ci arrendiamo al fatto che la nostra vita si dipane in un modo che spesso è al di fuori del nostro controllo e nella nostra testa rimane l'idea che avremmo vissuto bene se avessimo mantenuto il controllo la direzione che volevamo dare e quindi questa 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 cosa crea anche della rabbia quando leggi Frodo quando leggi sei sul finale questo atteggiamento di Frodo ti fa rabbia dici ma guarda Sam ma prendi esempio da Sam ma lui non può prendere esempio da Sam perché non può essere il cosplayer di Sam cioè non può la dico brutta abbassarsi a livello di Sam ok lì si vede ancora di nuovo la sua percepita il suo percepito pregiudizio di subalternità rispetto a Sam che è sempre stato quello che lo chiamava padron Frodo e quindi tutti questi elementi finiscono per rovinargli anche la stessa esperienza della sua missione lui si fa un'immagine distorta di quello che ha vissuto ed è ed è una cosa che capita spessissimo a tutti noi quindi è anche un insegnamento secondo me molto quotidiano e molto umano sai è come quelle persone che si ritrovano mai in vecchiaia ma neanche in vecchiaia a pensare sempre ai momenti in cui hanno fatto brutte figure in cui hanno fallito e non riescono ad andare oltre a questi momenti e quindi è proprio prova di un disagio profondo che poi è legato a una persona che invece ha portato a termine la missione e voglio ricordare che quando Frodo va poi torna indietro viene portato indietro a Gondor cioè il menestrello lì del re e canta le sue gesta lui diventa Frodo dalle nove dita cioè lui diventa nuovo Bering ecco questo è il punto lui diventa a tutti gli effetti l'eroe della narrazione che viene fatta di questa vicenda però per lui questa cosa è come se non funzionasse e lo si vede anche quando torna indietro quegli altri e trova la contè invasa da Saruman cioè lì vedi che è già fuori ed è in un'altra dimensione lui è proprio scioccato dentro non vuole neanche scendere a patti col fatto che dovrà porsi davanti al problema del togliere la vita a qualcuno cioè il comandamento non uccidere in quel momento viene messo pericolosamente in discussione perché se c'hai gli sgherri che ti occupano la terra tu devi difenderti e lui dice io non voglio fare del male a nessuno come non lo so i reduci dal Vietnam che non volevano rifiutare qualsiasi tipo di violenza e gli dicono Mary il fattore Cotto guarda la tua posizione è molto affascinante e romantica ma non porta a nulla qua bisogna decidere bisogna fare bisogna prendere in mano la situazione Frodo vive già da un'altra parte e quindi anche nel momento in cui ha a che fare con Saruman lui mostra ancora questa misericordia e questa pietà perché tutti lo vorrebbero far fuori Saruman ma lui dice no lasciatelo andare e ancora una volta gli va bene perché poi Saruman viene fatto fuori dal suo servo Grima e perché altrimenti anche lui probabilmente avrebbe fatto fuori Frodo certo in quel caso c'è una sorta di intervento providenziale che fa sì che le cose vadano bene però lui ormai è come se fosse disincarnato da quello che si svolge intorno a lui ma proprio perché ormai vive in una realtà che è fuori dal contingente dal posto in cui si trova a operare cioè se Frodo fosse stato da solo alla fine del romanzo sarebbe cambiato niente per fortuna che c'erano gli altri perché sono gli altri più attivi fattivi che effettivamente portano alla ribellione della Contea Frodo è proprio quello meno interessato a questa cosa e poi si vede poi nei nove mesi che seguono la fine della vicenda per cui se ne deve andare non c'è futuro per lui quindi è veramente un personaggio drammatico e tutto questo capovolge il Frodo dell'inizio perché se noi andiamo a vedere cosa succede all'inizio del romanzo Frodo è un buon tempone ride, scherza è simpatico fa battute cioè è un'altra persona anche il Signore degli Anelli è un romanzo di formazione cioè non dovremmo mai dimenticarlo però le formazioni non sono sempre in una sola direzione cioè un romanzo di formazione può portarti anche a un altro esito a una deformazione a una deformazione è Frodo colpito da PTSD la sindrome da stress post-traumatico che in realtà è molto è molto realistica cioè di nuovo non dimentichiamoci che Tolkien parla a ragion veduta perché è una cosa che ha vissuto lui come prima facevi notare e quindi il fatto che non riesca più a ridere non riesca più a godersi e non riesca neanche più a godersi i successi perché ormai si racconta una storia che contraddice quello che tutti gli altri hanno visto e io credo che sia una delle cose più umane del mondo proprio in questi giorni ho scritto una newsletter in cui dicevo guarda che la serenità in realtà è dimenticarsi delle grandi missioni della vita e cercare di fare attenzione alle cose che ti circondano se Frodo avesse avesse rivolto lo sguardo alle cose che lo circondavano forse si sarebbe accorto della canzone di Menestrello si sarebbe accorto dell'ammirazione di Aragorn si sarebbe accorto dell'ammirazione di Sam e anche della riconquista della Contea ma lui non può più farlo perché il suo sguardo è stato distorto proprio da quello stress post-traumatico lui ha vissuto la guerra lui è il reduce è il protagonista di The Master è il protagonista di Taxi Driver è il protagonista disincarnato che dopo aver vissuto una missione del genere pur avendola portata a termine non riesce più a a guardare la propria vita è una cosa molto umana che dovrebbe farci suonare un campanello d'allarme cioè ti stai accorgendo dei menestrelli accanto a te ti stai accorgendo di quelli che ti dicono ti voglio bene ti stai accorgendo di quelli che ti dicono io ti ammiro no perché siamo troppo intenti a imitare modelli inarrivabili credo che sia questo quello che ci portiamo a casa da Frodo sinceramente sì e mi piace anche la tua riflessione che hai fatto prima sul fatto che c'è una ci sono dei guardiani che hanno una responsabilità che poi a un certo punto però se ne devono andare e questo funziona sia nel caso dell'abbandono degli Hobbit dello stesso Frodo perché la gente alta i mentori Gandalf Elrond spariscono cioè te la devi vedere tu è come nell'Hobbit quando Gandalf arriva davanti a Mirkwood e dice ai nani e a Bilbo beh ragazzi io devo andare ho altro da fare vedetevela voi cioè arriva un momento in cui devi crescere e devi vedertela da solo e succede anche qui nel Signore degli Anelli cioè gli Hobbit se la devono vedere da solo e lo fanno e questo è vero fino a un certo punto e dopo alla fine questi personaggi se ne vanno letteralmente via cioè abbandonano quella terra perché lasciano la terra di mezzo dove vanno tornano nel reame imperituro sì perché perché il loro ruolo è finito cioè Gandalf lo spiega bene e questo è anche il motivo per cui noi dovremmo vigilare perché noi siamo portati continuamente anche nel nostro mondo a considerare questa cosa che una volta finita l'avventura il male sconfitto allora l'attenzione può calare può possiamo darci alla pazza gioia beh sì in fondo va bene ci hanno distrutto la terra però adesso adesso ci mettiamo in pace tranquilli non è così perché Gandalf lo dice guardate che il male si ripresenterà io sono stato mandato qui dai Valar in questa terra con una missione precisa combattere Sauron è vero lo sconfiggeremo perché la provvidenza ha previsto così però non possiamo pensare che sconfitto Sauron in futuro il male non si ripresenterà perché succederà sicuramente avrà un'altra faccia un altro aspetto altre forme e tutti sono chiamati a combatterli in quella situazione ci sono dei guardiani che servivano per determinate cose Elrond Galadriel con i loro reami per mantenere la bellezza della terra sospendere questi reami dal corso normale del tempo Gandalf con la sua magia la sua saggezza queste persone se ne vanno è finita l'era è finita la terza era adesso comincia l'era degli uomini gli uomini sono chiamati alla responsabilità anche gli Hobbit gli Hobbit sono dei mezzuomini sono degli uomini bassi anche loro sono chiamati a gestire quello che si sono guadagnati che magari avevano dimenticato e che la storia li ha portati invece a considerare seriamente perché ricordiamo che gli Hobbit si sono chiamati da soli il dittatore in casa quindi c'è questo momento in cui c'è una chiamata alla responsabilità della Contea degli Hobbit degli uomini ormai c'è Aragorn c'è la terra di mezzo di fatto è governata solo dagli uomini e quindi anche Sam ha una responsabilità si ritrova responsabile della Contea di farla ricrescere e infatti il messaggio del Signore degli Anelli è che tutti gli eroi positivi sono chiamati alla cura e alla responsabilità nei confronti degli altri dei sottoposti di chi ci sta intorno la stessa Ewing dice basta con la guerra e si apre alla cura alla guarigione con Faramir Aragorn fa lo stesso Sam costruisce la Contea perché è un giardiniere si prende cura delle cose che crescono questo è il senso quindi c'è un passaggio di consegne e ci sono delle persone che se ne vanno e la cosa incredibile è che anche Frodo se ne deve andare c'è un passaggio di consegne Frodo lascia tutto a Sam lascia anche il libro da finire lo consegna c'è spazio ancora per te e se ne va quindi ormai la sua parabola è finita anche la sua missione è finita lui stesso la vive così è un momento in cui se ne deve andare letteralmente perché non c'è più niente per lui a casa e la differenza fra Gandalf e Frodo è che Gandalf ha veramente finito la sua vicenda Frodo forse avrebbe potuto fiorire ulteriormente come i suoi amici come gli abitanti della terra di mezza futura ma il suo ego il modello che aveva e questi blocchi che direi psicologici questa PTSD che si porta dietro gli impedisce di di trasformarsi lui rimane Frodo Baggins Sam diventa Sam Pippin e tutti gli altri diventano quello che era il loro potenziale lui rimane lì lui rimane il portatore dell'anello ed è questa la sua tragicità quindi la sua missione viene portata a termine ma lui rimane in quella missione ed è intrappolato e quindi costretto ad andarsene è una metafora straordinaria eh sì e se poi consideriamo quanto negativa è la superbia all'interno delle opere di Tolkien il fatto che Tolkien indica che Frodo è un superbo perché non accetta di aver fallito è questa è una cosa pesante per il personaggio perché non vogliamo sminuire Frodo per tutto quello che fa il problema è come vive la cosa sappiamo che Aragorn a un certo punto non accetta di aver sbagliato e trova Gandalf che gli dice va bene le hai sbagliate tutte però accettalo perché da ora in avanti vedrai sai che le cose cambieranno e lui accetta e da lì comincia veramente il suo ruolo di Aragorn il re che deve ritornare nel momento in cui è consapevole di essere un eroe fallibile cioè la fallibilità è testimonianza dell'eroismo e del successo degli eroi di Tolkien Prodo pecca di superbia e questa cosa gli rimane dentro e rimane bloccato a scopo di questa superbia ancora più velenosa ancora più velenosa del coltello che lo trafigge quella è un'altra metafora bellissima del male che ti resta dentro pensa alla differenza rispetto al finale di Harry Potter cioè Harry Potter che ha la la cicatrice causata da Voldemort che non gli fa più male andava tutto bene finisce così il romanzo invece guarda Frodo che ogni giorno gli fa sempre più male e non riesce più a vivere proprio per questo male che gli è penetrato dentro e non è che Voldemort è scomparso allora ti sparisce il dolore guarda che qua l'anello non c'è più Sauron non c'è più i Nazgul non ci sono più il re stregone che ti ha pugnalato non c'è più eppure il dolore c'è sempre cioè il male continua a perseguitarti è una cosa incredibile cioè le prove gli errori i dolori in Tolkien ti rimangono dentro guarda questo potrebbe essere potrebbe essere una chiacchierata futura quello che mi sento di dire in chiusura è che è perché Harry fa quel passaggio di maturità che Frodo non fa cioè Frodo si tiene dentro il male anche perché proprio non fa la fioritura di Sam che Harry fa in qualche modo perché di nuovo Harry accetta capisce il male che c'ha dentro Frodo invece questa cosa non la capisce veramente e quindi è quel motivo per cui se lo porta dentro fino in fondo però è un tema veramente interessante è quello della permanenza del male questo potrebbe essere anche con un confronto fra varie opere molto interessante caro mio sicuramente caro mio possiamo dire in conclusione che anche se sei un mezzuomo non ti puoi prendere mezza responsabilità diciamola così è vero o comunque prendere le conseguenze delle proprie azioni se hai sbagliato accettalo questo è il senso di tutto accettalo accettalo caro mio ti ringrazio tanto per questa chiacchierata bellissima io in chiusura dico soltanto che se qualcuno in ascolto vuole stasera ovvero mercoledì 6 novembre alle 21 io faccio uno special su su Lobbit visto che è in uscita insomma la nuova traduzione allora facciamo un paio d'ore insieme con Lobbit e quindi ci vediamo trovate il link in descrizione qui fra i commenti per seguire la diretta Paolo grazie mille per questa questa chiacchierata di Frodo grazie a te è sempre un piacere ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie a te grazie a te grazie a te